Cosa vuoi fare l'anno prossimo? Cosa vuoi fare l'anno prossimo? A scuola? Si Ma vorrei fare... Non vorrei fare lezioni Ah cosa non vorrei... Fai uno sport? Fai uno sport? Eh? Fai uno sport? Yes Quale? Basketball Basketball Cosa vorresti fare da grande? Io da grande vorrei fare la basket Eh? Voglio fare il master Da oltre due anni, come ci fa Onlus, nel quartiere di Mirafiori Nord a Torino siamo attivi con un progetto che si chiama Incontriamoci in Cascina Il progetto è nato come un servizio di doposcuola per ragazzi dagli 11 ai 16 anni che ha coinvolto finora oltre 20 ragazzi Abbiamo anche cercato però di non limitarci al solo diritto allo studio ma abbiamo tentato in tutti i modi di ampliare la loro curiosità e per farlo abbiamo scelto il cinema Quello che vedrete adesso è un assaggio di quello che abbiamo fatto quest'anno Ehh... azione! Ehh... azione! Mi fanno un po'? Sì sì, io fanno un po'? Sì sì, io fanno un po'? Come stai scondendo? No, niente, niente, fammi dire come stai Eh, mamma, sono più casinata e c'è... e ho... la calchella... ce l'ho... ce l'ho da nella mia parte, mamma che te ti scendono? Che cos'è? Una faccella Allora, tu non hai capito? Sì, io fanno un po'? Sì, io fanno un po'? Sì, io fanno un po'? C'era una volta in Cascina sarà tutto questo e molto di più Vogliamo portare i ragazzi alla scoperta di ciò che sta fuori Far loro conoscere non solo il quartiere in cui vivono Ma renderli realmente cittadini di Torino Vogliamo dar loro la possibilità di appropriarsi degli spazi urbani E per far questo abbiamo bisogno di te Un video e un video! Grazie a tutti.